La lezione O di oggi è dedicata al predittore ottimo. In particolare, risolveremo il problema della predizione ottima ad un passo e, prima di tutto, esaminiamo sotto quali ipotesi affronteremo questo problema. La prima ipotesi sarà che il nostro processo da predire sia un processo stazionario a media nulla. È chiaro che questa non è un'ipotesi restrittiva, perché se il processo avesse media diversa da zero, ci basterebbe considerare il processo ottenuto prendendo il processo originale depurato dal suo valore medio, risolvere il problema della predizione ottima per questo processo y tilde a valore medio nullo e, una volta ottenuto il predittore y tilde a cappello, aggiungerci il valore medio in modo tale da essere in grado di prevedere il processo originale che aveva valore medio diverso da zero. La seconda ipotesi che faremo è che il nostro processo sia un processo a spettro razionale e abbiamo visto che questa è una categoria abbastanza ricca di processi casuali, senza però zeri sulla circonferenza di raggio 1. Ecco, questa è un'ipotesi che invece meriterà una certa discussione. Il problema che verrà affrontato sarà quello di trovare la predizione a un passo che indicheremo con y un cappello di t più 1 barra t che sia ottima secondo il criterio min square lineare. Con y un cappello di t più 1 barra t intendo la predizione della y al tempo t più 1 basata sulla conoscenza delle y passate fino all'istante t. Ecco, è bene fare alcuni commenti sulle ipotesi e sul problema che stiamo affrontando. In particolare l'ipotesi 2 dice che la funzione di trasferimento g cappello del fattore spettrale canonico ha tutti gli zeri con modulo minore di 1. Perché? Avendo escluso che la densità spettrale di potenza di y abbia degli zeri sulla circonferenza di raggio 1, questo significa che quando andremo a ricavare il fattore spettrale canonico il quale impone che gli zeri abbiano tutti modulo minore uguale a 1, ebbene non ci sarà nessuno zero con modulo uguale a 1. Quindi nel fattore spettrale riusciremo a tenere tutti e soli gli zeri con modulo minore di 1 della densità spettrale di potenza. Ecco, questo significa che noi potremo immaginare che il nostro processo y sia dato da un rumore bianco che alimenta la funzione di trasferimento g cappello di z del fattore spettrale canonico, che è una funzione di trasferimento abbastanza particolare. Prima di tutto sicuramente ha tutti i poli strettamente interni alla circonferenza di raggio 1, perché noi chiediamo che i nostri shaping filter, i nostri fattori spettrali siano stabili, questo per garantire l'asintotica stazionarietà. Il secondo punto però è che questa funzione di trasferimento ha anche tutti gli zeri interni alla circonferenza di raggio 1. Ecco, una funzione di trasferimento che corrisponde a un sistema causale stabile e con zeri tutti, diciamo, interni alla circonferenza di raggio 1, in qualche senso potremmo dire con zeri stabili, visto che la condizione di stabilità ha a che fare col fatto di stare dentro la circonferenza di raggio 1 quando consideriamo sistemi a tempo discreto, ebbene una funzione di trasferimento di questo tipo viene detta a fase minima. Voi avete visto nel corso di controlli automatici che per sistemi a tempo continuo la condizione di fase minima ha a che fare con gli zeri nel semipiano sinistro, mentre invece noi adesso sappiamo che quando lavoriamo con sistemi a tempo discreto le condizioni, diciamo, di stabilità, e adesso in questo momento stiamo vedendo anche la condizione di fase minima, ha a che fare con la regione interna alla circonferenza di raggio unitario, che per molti versi è il corrispondente a tempo discreto del semipiano sinistro. Quindi abbiamo questa g cappello che ha fase minima, ma al di là della definizione, perché ci interessa sapere che ha fase minima? Allora, il fatto che sia fase minima questa g cappello che possiamo scrivere come un numeratore su un denominatore significa che se noi prendiamo 1 su g di z, quindi prendiamo la funzione di trasferimento in cui scambiamo numeratore e denominatore, abbiamo una funzione di trasferimento che è ancora stabile. Questo significa che possiamo andare a ritroso, mentre nella simulazione del processo y abbiamo un rumore bianco che entra dentro g cappello, siccome g cappello alla meno 1 è stabile, perché è stabile? Perché i suoi poli sono le radici del denominatore, ma le radici del denominatore, avendo scambiato numeratore e denominatore, sono le radici del numeratore di g cappello, ovvero sono gli zeri del nostro fattore spettrale canonico. Pertanto questa g cappello alla meno 1 è una funzione di trasferimento stabile e a tutti gli effetti può essere impiegata per filtrare il processo casuale y, e siccome g cappello per g cappello alla meno 1 fa 1, a questo punto torniamo indietro a w. Quindi per questa categoria di processi casuali a spettro razionale in cui il fattore spettrale canonico è a fase minima, è possibile costruire, immaginare quello che viene detto filtro sbiancante. Infatti il fattore spettrale canonico alla meno 1 è chiamato whitening filter, che è un filtro causale stabile con il quale si può risalire al rumore bianco in qualche modo che sta alla base della rappresentazione mediante fattore spettrale nel nostro processo y. Perché è importante l'esistenza di un filtro sbiancante? È importante perché anche se noi non andremo in questi dettagli, la sua esistenza è la chiave di volta per la risoluzione del problema della predizione ottima, non solo quello a un passo che noi vediamo, ma anche quello a più passi. Ecco, cosa succede quindi se invece questo non accade? Cioè, se per esempio la densità spettrale di potenza del processo ha degli zeri con modulo uguale a 1. Ecco, quindi cosa succede quando viene violata l'esistenza di un filtro sbiancante, essenzialmente. Allora, se non esiste il filtro sbiancante, così, perché 1 su g cappello non è asintoticamente stabile, ci sono delle interessanti conseguenze. Allora, prima di tutto la g cappello non si può più dire a fase minima, ma questo è, diciamo, semplicemente un problema terminologico, la primo aspetto interessante è che se noi utilizziamo l'argomento del tendone del circo, ci rendiamo conto che esisteranno dei valori omega segnato i in corrispondenza dei quali la densità spettrale del nostro processo si annulla. Perché questo accade? Perché se noi prendiamo il piano di Gauss, abbiamo degli zeri della g cappello proprio sulla circonferenza di raggio 1 e quindi quando andiamo a percorrere questa circonferenza e passiamo sopra questi zeri, a questo punto ci troviamo nella condizione di avere un valore nullo del modulo. E quindi la densità spettrale si annulla in alcuni punti. Ecco, questo è un dato su cui poi torniamo tra poco. Questo ha delle conseguenze gravi sulla possibilità di prevedere i valori del processo casuale? In realtà non così gravi, nel senso che si può mostrare che anche per questo tipo di processo esistono dei predittori stabili, però noi non ci accontentiamo del fatto di avere un predittore stabile, noi vorremmo che il predittore fosse anche ottimo ed è qui che nasce la difficoltà, perché se l'ipotesi 2 viene violata si può mostrare che non esiste un predittore ottimo, cioè qualsiasi predittore noi riusciamo a costruire se ne può trovare sempre un altro migliore, migliore rispetto al criterio min square lineare. Allora, da questo punto di vista avrebbe voglia di fare una specie di procedura al limite, se dato un predittore ne esiste uno migliore, poi ne esisterà un altro migliore, ancora un altro migliore, si può sperare che questa successione di predittori miglioranti tenda a un limite e ovviamente verrebbe voglia di usare il predittore limite, perché sarebbe ovviamente migliore di tutti gli altri. In realtà esiste come una specie di successione di predittori, però il punto di accumulazione, potremmo chiamarlo il predittore limite, ha il piccolo grande difetto di non essere utilizzabile, perché non è stabile e quindi se lo usassimo in pratica avremmo dei fenomeni di divergenza. Ecco, quindi in questa situazione esistono predittori stabili, però non se ne riesce a trovare uno che sia il migliore di tutti, quindi è un po' come quella situazione in cui esiste l'infimo, ma non il minimo. Questo è un grave problema, nel senso stiamo facendo quindi un'ipotesi restrittiva quando formuliamo l'ipotesi 2. In realtà no, alla fine non è una gravissima restrizione. Prima di tutto perché risulta anche difficile immaginare in pratica un processo casuale per cui la densità spettrale di potenza sia rigorosamente zero in corrispondenza di qualche omega assegnato. Da un punto di vista di un'interpretazione, chiamiamola energetica, sarebbe come dire che questo processo ci garantisce che per questo omega uguale al segnato non c'è segnale, cioè quindi non c'è potenza in questa diciamo microbanda di frequenza, il che è molto poco naturale. Se voi pensate per esempio che qualsiasi processo di solito è sporcato da qualche forma di rumore e che questo rumore, se per esempio fosse un rumore bianco, avrebbe una densità spettrale piatta, quindi se io aggiungo a un qualsiasi segnale un rumore bianco, la sua densità spettrale si alza del valore della varianza del rumore bianco e immediatamente nella densità spettrale del segnale che ho ottenuto sommando a quello originale il mio rumore bianco non c'è nessun omega assegnato per cui la densità spettrale possa essere nulla. Se poi proprio accadesse di avere un modello della densità spettrale di Y che ha degli zeri sulla circonferenza di raggio unitario, dal punto di vista pratico basta dare un piccolo spostamento a questi zeri portandoli all'interno della circonferenza del raggio unitario, questo significa ipotizzare una densità spettrale leggermente diversa da quella originale, costruisco il preditore ottimo per questa densità spettrale e se lo spostamento è piccolo questo preditore ottimo alla fine funzionerà bene anche per il processo originale. Quindi facciamo questa ipotesi tecnica ma da molti punti di vista possiamo veramente dire che è un'ipotesi tecnica, l'ipotesi 2 che non limita diciamo l'importanza e la generalità del risultato che vogliamo diciamo ottenere. Un commento anche sul criterio min square lineare. Cosa significa il criterio min square lineare? Significa che noi vogliamo trovare un predittore che minimizza l'errore quadratico, quindi il valore atteso di x cappello meno x dove x è il valore futuro del mio processo casuale. Un criterio min square lineare perché ipotizziamo che la predizione x cappello possa dipendere solo in modo lineare dai valori passati x di t, x di t meno 1, x di t meno 2. ecco qui ovviamente è bene fare un commento, stiamo utilizzando il criterio min square lineare perché in qualche modo vorremmo limitare le nostre ipotesi a delle ipotesi sulla stazionarietà in senso lato, quindi con le ipotesi stazionarietà in senso lato diciamo questo criterio min square lineare ci permette di trovare facilmente come vedremo il predittore ottimo. È lecito domandarsi se non si possa fare meglio. Allora la risposta è sì, anche se questo può avere il costo di dover fare ricorso a predittori che dipendono in maniera non lineare dal passato. C'è come al solito un importante diciamo caso che è quello dei processi gaussiani. Nei processi gaussiani si può mostrare che il predittore min square lineare che noi ricaviamo tra poco è a tutti gli effetti il miglior predittore in assoluto, quindi non esiste nessun predittore che può fare meglio del predittore min square lineare. Quindi come spesso accade abbiamo due possibilità. Possiamo fare un'ipotesi molto forte che il nostro processo casuale sia un processo casuale gaussiano e allora sotto questa ipotesi il predittore ottimo di cui stiamo parlando è proprio il predittore ottimo in tutti i sensi, non c'è nessuno può fare meglio. Oppure se non abbiamo abbastanza informazioni sulla gaussianità possiamo ipotizzare di avere un processo casuale stazionario in senso lato e sotto questa ipotesi il predittore che ricaviamo è il predittore min square lineare, quindi non c'è un predittore che sia funzione lineare del passato, dei valori passati, che possa fare meglio in termini di errore quadratico medio. Però si potrebbe fare meglio invece se il processo non fosse gaussiano con dei predittori che dipendono in modo non lineare dalle osservazioni passate. Ecco, siamo adesso pronti per affrontare e risolvere il problema della predizione ad un passo. Con gli strumenti a disposizione potremmo anche affrontare il problema della predizione a più passi, ma non lo faremo per semplicità e per ragioni di tempo e in quel caso lo strumento fondamentale sarebbe proprio il filtro sbiancante di cui diremo prima. Qui invece daremo una derivazione un po' semplificata del predittore ottimo ad un passo in cui non avremo bisogno esplicitamente di menzionare il filtro sbiancante, anche se implicitamente sarà come se lo stessimo usato. Allora, formuliamolo proprio come teorema. Sia y un processo arma con fattore spettrale canonico g di z uguale c di z su ad z, per semplicità qui ometto il solito cappello, quindi chiamo il fattore spettrale canonico direttamente, lo chiamo g invece che g di cappello. Allora, sotto le ipotesi 1 e 2 che abbiamo fatto, abbiamo che l'espressione del predittore ottimo nel dominio della trasformata y cappello di z è c di z meno a di z diviso c di z per y di z. E l'espressione del predittore ottimo nel dominio del tempo è data da questa formula. Ecco, in questa formula è interessante notare che abbiamo y cappello di t barra t men 1, la cui interpretazione è chiara, è la predizione ottima di t basata sulle osservazioni della y agli istanti t men 1, t men 2 e così via. E qui abbiamo invece un y cappello di t men i barra t men i meno 1. L'interpretazione di questa, diciamo, formula, di questa espressione è che è il valore della predittore ottimo all'istante t men i, quindi per esempio se qui i fosse 1 è il predittore ottimo del passaggio precedente, del passo precedente, il quale è pur sempre un predittore ottimo ad un passo, che sia ad un passo lo vedete esaminando la differenza tra t men i e t men i meno 1. Quindi quando questi indici temporali differiscono di un'unità, vuol dire che state facendo un predittore a un passo. Se qui ci fosse stato scritto t men i meno 2, voleva dire che consideravo il predittore a due passi. Ecco, in questo caso sto dicendo che il predittore ottimo ad un passo è una combinazione lineare delle predizioni ottime ad un passo che avevo eseguito ai passi precedenti, più una combinazione lineare delle y di t men i. Potete controllare che qui i va da 1 fino al valore massimo tra na ed nc. Na e nc sono i gradi dei polinomi adz e cdz. Giustamente qui si parte da i uguale a 1, che vuol dire che la prima y che uso è la y di t men 1, il che è corretto perché sto facendo la previsione di y di t e mi è vietato usare la y di t, devo cominciare a usare i dati solo a partire dal primo dato passato che è y di t men 1. Ecco, la convenzione che lega, diciamo, queste due formule è che noi d'ora in poi indichiamo con y cappello di z la trasformata z di y cappello di t barra t men 1. Quindi diciamo y cappello di z è la trasformata z della predizione della y all'istante t, ovviamente basata sui valori precedenti. Ecco, proviamo a dimostrarlo, anche se la dimostrazione è un pochino semplificata ma non troppo, e per dimostrare questo risultato ci conviene prima ricordare come sono fatte le funzioni, come sono fatti, polinomi c di z e ad z. Allora, il polinomio c di z che è quello della parte ma è scritto come 1 più c1z alla meno 1, eccetera. Non voi sapete che qui si potrebbe anche mettere c0, ma nel momento in cui noi ipotizziamo che c diviso a sia un fattore spettrale canonico, stiamo ipotizzando che il numeratore e il denominatore siano monici, quindi che il coefficiente della potenza di grado massimo sia uguale a 1. Qui la potenza di grado massimo è z alla 0, perché poi c'è z alla meno 1 e così via, e quindi giustamente qui c'è 1. Lo stesso vale per a di z. Ricordiamo che a di z, a differenza di c di z, è sempre 1 meno a 1 z alla meno 1 meno, eccetera, perché a di z nasce dalla formula y di t uguale a 1 y di t meno 1. Quindi quando portate a 1 y di t meno 1 a sinistra del segno di uguale, avete questo meno che salta fuori. Quindi questi sono i polinomi c di z e ad z. Nel nostro modello abbiamo un rumore bianco, quello del fattore spettrale canonico, che entra nella funzione di trasferimento del fattore spettrale canonico, che è una c su a, e che produce y. Quindi questo vuol dire che y è uguale c diviso a per w o anche che a y è uguale c per w. Ecco, la dimostrazione, diciamo, è tutto sommato abbastanza semplice e il primo, diciamo, obiettivo di queste manipolazioni algebriche è scrivere una formula in cui ho y che viene messo uguale a una serie di termini più w. Quindi è importante avere una formula in cui a sinistra ci sia la y da sola e a destra ci sia la w da sola. Per raggiungere questo scopo procedo in questo modo. Prima divido per c a sinistra a destra, in questo modo sono riuscito a isolare w. Però mi manca y a sinistra, abbiamo detto che voglio avere sia w come termine a destra, ma voglio anche una y come termine a sinistra. Lo faccio nella maniera più semplice possibile. Aggiungo y a sinistra e a destra del segno di uguale. A questo punto porto a destra questo a su c per y e avrò che y è uguale 1 per a su c per y più w. Quindi ho raggiunto, diciamo, l'obiettivo che avevo annunciato. Ecco. A questo punto raccolgo denominatore comune qui c di z e ecco devo a questo punto fare dei ragionamenti su questo termine. Questo termine al numeratore a c di z meno a di z. Come è fatto c di z meno a di z? Allora c di z è 1 più c1 z alla meno 1 più c2 z alla meno 2. A di z abbiamo detto che è 1 meno a 1 z alla meno 1 eccetera col meno davanti. Quindi 1 e meno 1 si semplificano e mi rimane c1, qui c'è meno meno, quindi c1 più 1 z alla meno 1 più c2 più 2 z alla meno 2 e così via. Ecco, questa è una prima osservazione che ci tornerà utile. La seconda cosa che voglio fare è prendere questo rapporto di polinomi e antitrasformarlo. Quindi quello che mi interessa è antitrasformare c-a diviso c, dove c-a l'abbiamo appena calcolato, è fatto così, e c è il polinomio c di z. Come voglio fare l'antitrasformata con l'integrale di linea? No, nemmeno per sogno, la voglio fare nella maniera semplice che avevamo visto, ovvero facendo ricorso alla cosiddetta lunga divisione. Ecco, allora un po' di ripasso di divisione di polinomi che tutti avrete studiato al liceo, quindi qui scrivo il mio numeratore, qui scrivo il denominatore e comincio a fare la divisione. Quindi devo dividere questo monomio per 1. Beh, allora è abbastanza facile, quindi a1 più c1 z alla meno 1. Poi moltiplico il risultato della divisione per il divisore, quindi avrò a1 più c1 per z alla meno 1, più c1 a1 più c1 z alla meno 2, poi qui c'è un altro termine, ma non ci serve, non lo scrivo neanche. A questo punto faccio la sottrazione di questi termini, il primo deve sempre venire 0, se non viene 0 avete sbagliato qualcosa, e qui viene una differenza. Questa differenza non mi interessa tantissimo, qual è il valore preciso, la chiamo alfa 2 per z alla meno 2, qui trovate scritto il valore di alfa 2 se vi interessa. Procedo col secondo passaggio, devo dividere questo monomio per 1, quindi avrò alfa 2 z alla meno 2, moltiplico questo alfa 2 z alla meno 2 per il divisore e scrivo qui sotto. Il primo termine sarà alfa 2 z alla meno 2, perché così quando faccio la differenza viene 0. Il risultato di questa sottrazione mi darà un primo termine qui, che è alfa 3 z alla meno 3. Ecco, la morale della favola è che se io eseguo la lunga divisione ottengo sempre un risultato di questo tipo. Avrò un primo termine, che qui era 1 più c1, ma che io ribattezzo alfa 1, alfa 1 z alla meno 1, poi avrò alfa 2 z alla meno 2, alfa 3 z alla meno 3. Che cosa mi interessa di questo risultato? Mi interessa osservare che manca il termine in z a 0, cioè il primo termine che c'è è sempre un termine in z alla meno k dove k è maggiore o uguale a 1. Ecco, questa è la cosa importante che tra un attimo si rivelerà decisiva. In conclusione, y di z che ha questa espressione, si può scrivere come se qui al posto di c di z meno la di z su c di z metto il risultato della divisione, cioè in pratica faccio la divisione, come alfa 1 z alla meno 1 più alfa 2 z alla meno 2 più, naturalmente qui i termini potrebbero essere infiniti perché tranne casi fortunati non ho nessuna garanzia che questa divisione si fermi senza avere un resto, però io potrei andare avanti all'infinito, quindi diciamo questa è un po' l'idea adesso, di avere l'antitrasformato, cioè dipende se c di z meno a di z diviso c ha un'antitrasformata con un numero finito di termini, oppure se sono infiniti, ma se sono infiniti non è un problema, avrò delle potenze di z alla meno k sempre più grandi e si va avanti, per allora, se io prendo questa espressione e l'antitrasformo, scopro qualcosa di molto interessante, beh, antitrasformata di y di z e y di t, quando antitrasformo questo, il primo termine, abbiamo detto, è quello in z alla meno 1, quindi avrò alfa 1 y di t meno 1 più alfa 2 y di t meno 2 e così via, qui possono essere anche infiniti i termini, ma la cosa non mi turba minimamente e l'antitrasformata di w di z è w di t. Allora, facciamo mente locale su questo risultato. Qui abbiamo y di t, che è la quantità che io voglio predire. Y di t è la somma di w di t che, con le mie conoscenze a disposizione, è assolutamente impredicibile, perché ricordiamo, io voglio indovinare, prevedere y di t con le misure y di t meno 1, y di t meno 2 e così via. Con queste misure, il rumore bianco per la sua definizione, essendo indipendente da tutto ciò che c'è nel passato, è assolutamente impredicibile. Viceversa, questo termine che ho evidenziato in arancione è una combinazione lineare di valori passati, anche se fossero infiniti, dicevamo, non mi dà fastidio, perché comunque sono tutte quantità note e tra l'altro gli alfa 1, alfa 2, eccetera, sono coefficienti che io posso conoscere, perché basta che io vada a eseguire la lunga divisione. Allora, se io vedo che la quantità da prevedere è un qualcosa che è completamente noto, più qualcosa che è impredicibile, ho risolto il problema della predizione. Ho risolto il problema della predizione perché a questo punto questo è proprio il mio predittore ottimo. Quindi il mio predittore ottimo è dato da questo pezzo di formula. Beh, siamo molto contenti di aver risolto il problema, ci rimane un pochino al dispiacere però di avere una formula con infiniti termini, che potrebbe non essere particolarmente pratica. Ecco. Tuttavia, come vedremo tra un attimo, diciamo, possiamo anche evitare questo problema. Allora, abbiamo visto pertanto che l'espressione del predittore ottimo del minimo delle trasformate è yk uguale c-a diviso c per y, perché questo termine qui, vedete, qui c'era il w e qui c'è il w di t, se io vado a trasformare questo termine ottengo c-a diviso c. Quindi nel dominio delle trasformate il predittore ottimo è molto semplice. Io devo prendere y di z e mandarla all'ingresso di questa funzione di trasferimento. Cioè questo qui è, diciamo, la funzione di assurimento del predittore ottimo. Ecco. Però è ragionevole avere, desiderare anche un'espressione comoda nel dominio del tempo, oltre che un'espressione nel dominio delle trasformate. Allora, per farlo moltiplico per c, quindi qui ho cyk uguale c-a per y, mi ricordo che c di z si scrive in questo modo, e invece c-a l'abbiamo visto, cos'è? Salta il termine unitario all'inizio, ho c più a1 z tra meno 1, c più a2 z tra meno 2, y. A questo punto, se antitrasformo questa uguaglianza, ho un'espressione abbastanza, diciamo, interessante, perché ho y cappello di t barra t meno 1, più c1, e poi c'ho z alla meno 1 per y cappello. z alla meno 1 per y cappello significa fare una traslazione unitaria. La traslazione unitaria quando si fa sul predittore, evidentemente, se avevo y cappello di t, ho y cappello di t meno 1. Ecco, una regola che dovete tenere presente è che quando applico l'operatore di ritardo unitario a y cappello, siccome questo è un predittore e la distanza tra il primo indice temporale e il secondo deve rimanere costante se il predittore è un passo, quando questo passa a t meno 1, quest'altro deve passare a t meno 2. Vabbè, ma una volta, diciamo, avuto questo accorgimento, posso scrivere questo termine, poi ci sarà un termine c2 y cappello t meno 2 barra t meno 3 e così via. Qui è anche pure molto semplice perché ho c1 più 1 y di t meno 1 perché c'è z alla meno 1, poi ci sarà c2 più 2 y di t meno 2. L'ultimo passaggio è prendere tutti questi termini e portarli a destra del segno di uguale e a questo punto non ho nemmeno più il problema degli infiniti coefficienti, perché invece di avere una formula con infiniti coefficienti che mi danno il predittore in funzione delle y vecchie, a questo punto ho una formula in cui c'è una parte che dipende dall'y vecchie, che è questa sommatoria qui. Ecco, qui devo usare il massimo tra n a e n c perché non è garantito che tutti e due i polinomi abbiano lo stesso numero di termini, quindi potrebbe essere che il polinomio a di z è più corto del polinomio c di z, quindi sostanzialmente finché ho tutti e due faccio a1 più c1, a2 più c2, a3 più c3, poi se le a sono finite metterò c4, c5, c6, insomma quello che serve. Ecco, ma invece la cosa importante è che qui ho invece una combinazione lineare dei valori passati del predittore, quindi ho ottenuto una formula ricorsiva molto compatta perché una volta che io ho fatto partire il predittore dispongo dei valori passati delle predizioni e con questi valori passati vado ad alimentare i nuovi valori del predittore, che si ottengono combinando linearmente le vecchie predizioni e le vecchi valori delle osservazioni delle y. Qual è l'errore di predizione di questo predittore? Beh, l'errore di predizione si definisce come la differenza tra il valore da prevedere y di t meno la predizione che è y cappello di t barra t meno 1. Ecco, c'è una proprietà notevole che ci dice che la varianza dell'errore di predizione coincide con la varianza del fattore spettrale canonico. La dimostrazione è immediata, basta tornare alla formula che avevamo evidenziato con l'asterisco rosso e se questo è il predittore, y meno y cappello è y meno il termine arancione e quindi l'errore di predizione è w, quindi l'errore di predizione è proprio il rumore bianco del fattore spettrale canonico. Quindi è immediato che la varianza è proprio sigma quadro, la varianza del fattore spettrale canonico. L'altra cosa importante è che l'errore di predizione a un passo deve essere un rumore bianco, perché da quello che abbiamo visto coincide con il rumore bianco il fattore spettrale canonico e questo può essere un importante strumento di diagnosi, di diagnostica, perché se ho un predittore e penso che questo predittore sia un buon predittore, quando poi lo applico la sequenza degli errori di predizione, cioè la sequenza dei residui, deve avere le proprietà statistiche di un rumore bianco. Quindi per esempio dovrebbero essere dei campioni incorrelati tra di loro, ε1, ε2, ε3 e così via. Bene, possiamo concludere con alcuni esempi per vedere come si applica in pratica la formula del predittore ottimo. Allora prendiamo questo processo, w di t più 3 w di t meno 1, dove w è un rumore bianco a varianza 2, potete subito vedere che questo è un processo a media mobile di ordine 1 in MA1 e cerchiamo di ricavare il predittore ottimo a un passo e la relativa varianza dell'errore di predizione. Come già detto è un modello media mobile di ordine 1 con c di z uguale 1 più 3 z alla meno 1, a questo punto la funzione di trasferimento c di z su ad z, che scrivo qui, è canonica, no, perché c'è uno 0 in z uguale a meno 3. Ecco, questo è importante, prima di tutto è fondamentale ricavare il fattore spettrale canonico, dovete fare questa cosa. Come si fa? Dovete costruire il filtro passatutto, questo è il filtro passatutto di cui avete bisogno, il compito del filtro passatutto è semplificare il numeratore, diciamo, che ha lo 0 nella posizione sbagliata, cioè esterno al cerchio di raggio 1, e qui è, diciamo, il termine che serve. Verifico per sicurezza che sia un filtro passatutto, in particolare che abbia guadagno 1, lo faccio mettendo z uguale a 1 e controllo. Allora la nuova g è t per g e facendo i conti viene 3 per 1 più un terzo z alla meno 1. Non è più monico però adesso, allora a questo punto divido per 3 e moltiplico per 9 la varianza del rumore bianco. Conseguenza, il fattore spettrale canonico è questo, che si può scrivere come c cappello su a cappello, dove questo è il numeratore che adesso ha lo 0 interno alla circonferenza, e la varianza è questa. Predittore nell'unione delle trasformate, c cappello meno cappello diviso c cappello, a cappello essendo un ma vale 1, c cappello meno 1 su c cappello, c cappello y cappello uguale c cappello meno 1, scrivo, qui come al solito deve cancellarsi l'1 naturalmente, e quindi alla fine ho y cappello uguale meno 1 terzo z alla meno 1 y cappello più 1 terzo z alla meno 1 y. Ecco, il predittore nell'unione del tempo si trova subito, basta antitrasformare, e quindi avrò meno 1 terzo y cappello t meno 1 barra t meno 2 più 1 terzo y di t meno 1, e la varianza della ripredizione vale 18. Un secondo esempio. In questo caso prendiamo un modello ARMA, ARMA 1 1, con la parte autoregressiva, alla parte media mobile. Lo evidenziamo alla funzione di trasferimento, porto a sinistra 0,5 y in t meno 1, quindi ho 1 più 0,5 z alla meno 1, qui 1 più 0,9, la funzione di trasferimento c di z sulla di z è questa, vedete subito facilmente che è canonica. A questo punto la formula del predittore nel minore frequenza è questa, sostituisco con le funzioni di trasferimento e il predittore nel minore trasformate è questo qui, dove ho portato 0,9 z alla meno 1 a destra. Nel dominio del tempo basta antitrasformare e questo è il risultato che otteniamo. La varianza della ripredizione, in questo caso, siccome il fattore spettrale canonico era già giusto in partenza, è semplicemente pari a sigma quadro. Ecco, ultimo commento, se mi trovassi a dover calcolare il predittore ottimo per processi autoregressivi di ordine n, questa è la rappresentazione del processo, perché abbiamo c di z, la parte media mobile, che vale sempre 1 e ad z si ipotizza stabile, altrimenti abbiamo detto non è un processo autoregressivo, per noi un processo autoregressivo è quello che si ottiene asintoticamente da questa, diciamo, relazione quando ad z è stabile. La conseguenza importante è che g di z uguale 1 su ad z è sempre canonico, quindi possiamo partire direttamente a scrivere l'espressione nel dominio delle frequenze, che diventa questa, semplifico l'1 e quindi la formula del predittore ottimo un passo è questa, che è una formula estremamente semplice, quindi questo, diciamo, è un risultato da tenere a mente che se avete un processo R potete direttamente scrivere il suo predittore ad un passo. Questo conclude la lezione di oggi.